Buongiorno a tutti signori e signori, sono Ronnie Rappone Polverici, qui in quello momento esclusivo mondiale interplanetario, unico al mondo, ebbene sì, con la casa del Gran D'Agello. Gran D'Agello che ci verrà protagonisti ancora il nostro amico conetano, Ricky Sanagiotto, che sfatterà l'ennesimo proverbio. Sentiamo. Ubbene, allora, c'è un sciapigotto amico mio, cos'è, c'è stato discorso, tutto quanto. A un certo punto mi sono andato via, e gli ha detto, è però vero, quando la volpe non arriva all'uva, va dire andata a comprare il ternero e fino all'Ancona al supermercato, ubbene. da svingastrata, ragazzi, c'è stato tutto, c'è stato, però... a un certo punto. Sì. Sì.